Un'altra problematica è collegata sempre al territorio, quello delle liste d'attesa, perché la mancanza di quelle strutture territoriali causa l'intasamento delle liste di attesa stesse e per il quale anche voi qui avete una grande opportunità che è quella di educare la popolazione nel nuovo modello territoriale. Spieghiamolo da questo punto di vista. Sì, ad enfatizzare il concetto di presa in carico, che non è la prima visita, non è la visita che si fa per la prima volta per un problema nuovo, ma è che quando un paziente è noto e ha una sua patologia non deve aspettare, non deve avere la lista d'attesa. Il nuovo modello assistenziale deve consentire tutto questo, per cui fatta la prima visita io avrò schedulate, avrò calendarizzate tutte le visite successive. Ovviamente quando poi ho bisogno di una prima visita per un problema non correlato alla patologia di base, posso andare in ospedale tranquillamente e in quel caso potrei anche ridurre le liste d'attesa perché i primi accessi, essendo andati tutti sulla versante della presa in carico, si sono ridotti e quindi si ridurrebbero le liste d'attesa. Quindi di fatto diciamo... Sembrerebbe essere un tecnicismo, ma è una delle più, come dire, si spera promettenti soluzioni organizzative. Quindi di fatto diciamo si può evitare che io paziente debba prenotare una visita e poi fra un anno la debba avere, che questo è poi il grande vulnus per la sanità pubblica rispetto a quella prima? Certo, se io ho il diabete non devo prenotare la visita. Una volta che ho fatto la diagnosi di diabete devo avere calendarizzate tutte quelle visite che mi servono a prevenire le complicanze e ad essere seguito esattamente così come dicono le linee guida. E quindi questo accelera? Per non parlare delle patologie oncologiche che non devono neanche aspettare e che sono talvolta intasate dal fatto che le prime visite e le liste d'attesa sono talmente tante perché ci hanno dentro sia quelli che sono presi in carico, i pazienti presi in carico, che quelli che invece hanno reale bisogno di essere visitati per la prima volta. E quindi la persona cosa deve fare se ha questa prenotazione così lontana nel tempo? Cioè cercare di fare valere i propri diritti come? Diciamo che l'ASP, la Regione, chiaramente anche il Policlinico, le aziende ospedaliere, ma anche i media, è importante educare le persone a utilizzare i nuovi strumenti. Uno di questi è il CUP che racclude tutte le opportunità di offerta territoriali e ospedaliere all'interno di un unico contenitore che consentirebbe, distinguendo la parte primo accesso dalla parte presa in carico, di poter organizzare e gestire al meglio le prenotazioni di chi ha bisogno di avere una visita. Le visite prese in carico sono già calendarizzate, dovrebbero essere calendarizzate. In questo è importante la collaborazione con la medicina territoriale, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, in modo che si riescono ad attuare questi meccanismi di efficace prenotazione, gestione delle prenotazioni.